Reccoci insieme per l'ultimo segmento del Bianchiar Rosso TV Sport alle nostre spalle, le immagini dello storico Bari-Cittadella dell'aprile 2002 quando viene toccato il fondo per quello che riguarda i paganti dal San Nicola, appena 51 paganti, chissà quanti ne saranno in occasione della gara di lunedì sera tra Bari e Cittadella, perché paradossalmente, guardate lo stadio, insomma si sono creati gli stessi presupposti. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Enzo, Daniele. Ciao Daniele, ciao. Enzo, niente che dire, a pensare solamente a quante telefonate, magari l'hanno scosto il lunedì, il martedì, a confrontarci, a fare anche discussioni tra noi tifosi, anche a non condividere le stesse idee con te, cioè fa un male credibile. E poi, io guarda, spero che veramente vanno, cioè che sia una bolla di sapone a meno, però è brutto sentire poi alcuni giocatori che appunto stanno di mezzo a fare i filosofi in in sala stampa dopo la partita, ha nascosto a fare i filosofi. Eh, non è bello, non è bello, non sarebbe bello. Dai, speriamo che adesso faremo le taggine, ancora in una fase, diciamo, acerba, quindi insomma, forse è meglio non sbilanciarsi. In quanto qua un gol di Gigi Anaclerio, eh, l'ho invitato tante volte in trasmissione, spero che prima o poi venga. C'è un amico in linea, pronto? Aspettiamo 080-501-9998 per i vostri interventi in diretta telefonica. Con la gara del Bari la vinse 3-2, se non sbaglio, vinse 3-2 con la gara del Bari, sì, con il Cittadella, vinse quella partita per 3-2, ripeto, si giocò davanti a 51 spettatori. Record storico negativo per una gara del Bari nei campionati professionistici. C'è un amico in linea, pronto? Enzo, ciao, buonasera. Ciao, ciao, ciao. Enzo, cosa ti devo dire? Sembra come se ce l'hanno sempre con noi, ma cosa abbiamo fatto di male? Il piove sul bagnato ci sta tutto adesso. Il piove sul bagnato. No, niente, due cose serie. La prima, speriamo che il tutto si risolva veramente in una bolla di sapone, perché credo che, insomma, i giocatori che sono stati a Bari, mi auguro che siano sempre stati attaccati alla maglia e soprattutto ai tifosi, soprattutto. Poi, seconda cosa, sempre per il professor Antonucci, Enzo, fatti portare la voce, lo vogliamo rivedere in trasmissione. Va bene, lo riporteremo, dai. Grazie, Enzo, buona giornata. Quello che fate è importante, perché credo che il professor Antonucci, insomma, per la fine, con i due piatti della bilancia, si renda conto che, insomma, quelli che lo sostengono sono molti, ma molti, ma molti, ma molti di più di qualche sparuto detrattore. 080-501-998, 51 spettatori in Bari-Cittadella e cosmediamente quanti spettatori sta accogliendo a Palazzetto? Ah, quest'anno stiamo raggiungendo i 3.000 posti. Il Palazzetto, l'ultima partita ci sono state più di 4.000 persone. È stato fatto un lavoro importante di conoscenza per la cittadinanza, perché poi in realtà il problema fondamentale di tutto era far capire anche alla gente che c'era una squadra di pallacanestro e non solo per i pochi intimi del... La nicchia. La nicchia, la cosiddetta nicchia che comunque non è mai arrivata a 51 persone al CUS. Mi dai anche la possibilità di ricordare che Terebari, proprio nel fine settimana, anche dopo il TV Sport in diretta, insomma, mandare l'ondaro speciale dedicata non al CUS, al pianeta CUS, cioè a tutto quello che gira intorno a questo fenomeno pallacanestro e Bari. Ma infatti il discorso non è solo legato alla prima squadra, perché il discorso prima squadra, il DNA, questo campionato è importante perché trascina il sistema, è la punta dell'iceberg. Quello che stiamo cercando di fare è fare un progetto valido e reale con tutte le società baresi, noi l'abbiamo definito Basket Soul, questo progetto che unisca tutte quante le varie realtà baresi e non solo, per cui stiamo parlando di tutta la provincia, anche perché sarebbe importante avere un settore giovanile nostro e fra qualche anno avere la possibilità di poter schierare in campo la metà della squadra di Bari. C'è un amico in linea, pronto? Ciao Renzo, sono Lorenzo. Ciao Lorenzo. Ti volevo dire, io sono stato ad Ascoli a vedere la passata e mi sono reso conto che anche lì diciamo che la condizione, praticamente Ascoli e Bari sono due società che hanno più o meno un passato e un presente analogo, gloriose decadute, anche lì, però insomma vedendo la partita mi sono reso conto che la squadra, diciamo l'Ascoli, aveva, come hanno fatto notare molti, due, oddio, parlare di queste cose in una giornata come questa è anche un po' fuori luogo, parlare di calcio giocato, sono reso conto che effettivamente anche lì hanno, continuano, nonostante questi problemi, le penalizzazioni, una società assente, un stadio vuoto, però ho visto una grinta messa dai giocatori di casa che forse però insomma il Bari non è mai venuta meno la grinta, solo forse la prevede di Ascoli era sbagliata, ma forse era dovuto probabilmente alla consistenza di un attacco che invece a noi manca, poi quando ho chiesto a chi era vicino a me, scusate, ma quando prende Papavaigo mi hanno detto una cifra irrisoria, cioè come dire sta qui giusto per farlo giocare e farlo divertire, ma sai Papavaigo è ancora della Fiorentina, quindi magari la Fiorentina continuisce, quindi tu dici che è un fatto di vicinanza, sì, l'Ascoli prenderà nulla e la Fiorentina probabilmente sostiene la scuola, ma tu scusa, credi che parlando di giocatori di esperienza, tu credi che sia fattibile un ritorno delle vecchie punte che stanno a riposo da un po' di tempo? Sicuramente torneranno, questo non avendo mercato il Bari alla fine e prova a far giocare Castiglio e Kutuzo, ieri hanno giocato a Corato, mi dicono che stanno un po' meglio, Kutuzo ha perso 4-5 kg negli ultimi tempi, Castiglio insomma qualcosa la sta recuperando, è chiaro che parliamo di giocatori, soprattutto Castiglio un po' in avanti con gli anni, parliamo di 35 anni e mezzo, con uno stop lungo e sappiamo a qualsiasi livello quanto tempo corra prima che uno torni se stesso, punto interrogativo, lo mettiamo, è enorme, però staremo a vedere, sono curioso anche io di vedere che cosa accadrà per entrambi, intanto a grande richiesta, vi facciamo vedere il gol che Nicola Bellomo, io non sono mai riuscito a mandare in onda, però questo è il gol, con l'augurio che ne possa fare uno in campionato anche, che Nicola Bellomo ha segnato con la nazionale Nel 21 di Serie B in Russia, un gol che mi dicono anche molto bello, adesso lo vedremo insieme, un gol peraltro decisivo ai fini della vittoria in Russia, questa è l'azione dell'Italia e qui il pallone che giunge nella zona di Nicolino che riesce a piazzare di piatto in rete, io dico che probabilmente il miglior Bellomo nel Bari non si sia ancora visto, lo vedo ancora un po' timido rispetto alle proprie potenzialità, è anche vero che mi avviso giocare in una posizione che non è consona alle sue caratteristiche, lo vedrei un po' più vicino alla porta, uno dei tre di centro campo, mi avviso bisogno di una gamba più resistente, forse questo Nicola al momento non ce l'ha, comunque era quanto dovevamo. Condonato, vogliamo dare un appuntamento bello preciso per chi non fosse ancora venuto a vedere le partite della Leomaticus Bari, domenica c'è una bella partita perché viene a Bari oltre a Meneghin che ricordo sarà ospite d'onore, viene il Capo d'Orlando, una squadra anche questa di tradizione. È di tradizione, qualche anno fa era in A1 addirittura, è una squadra con grossa tradizione, hanno una formazione molto molto competitiva per il campionato della divisione nazionale A e dell'altro division della nostra conference per cui sono impegnati non direttamente con noi, noi siamo comunque, volevo ricordare che siamo al secondo posto nella nostra division ed è un grande onore per noi essendo una matricola a aver fatto questi passi da gigante in questa ottica. Per cui domenica alle 18 al Palaflorio inizierà la partita e niente, spero che ci siano tantissime persone. C'è un argomento al quale oggi la gente è molto sensibile. Intanto voglio ricordarvi una cosa, vogliamo farvi un regalo. Domani al Teatro Forma, il teatro di Terebari praticamente, perché accanto a Terebari c'è uno spettacolo dedicato al calcio di Beppe Servillo, quindi una cosa straordinaria, football, i primi due che manderanno un messaggio al SOS TV Sport, lo possiamo far vedere il numero, vinceranno, saranno ospiti del Teatro Forma per vedere questo spettacolo domani sera, quindi una serata all'insegna della musica e del calcio con Beppe Servillo. Eccolo qua il numero, SOS TV Sport, 366-522-6888. Siamo in saluti, grazie a Donato Ravelli, grazie anche a voi, anzi a lunedì col Biancherosso TV Sport. Ciao! Ciao!